Buonasera, chiamo dal Ministero della Pubblica Istruzione, vorrei parlare con Patrizia De Falco per cortesia. Sì, sono io. Salve signorina, buongiorno. Buongiorno. Sono Caputi, la chiamo dal Ministero della Pubblica Istruzione per una comunicazione che riguarda il suo esame di maturità presso l'ITIS Pozzuoli. Sì. C'è stata una persona, io adesso non so se lei è al corrente di questo fatto, ma una sua collega che ha denunciato la Commissione per il fatto di ritenere di non aver ricevuto un voto adatto a quella che era la sua preparazione, questo almeno secondo la ragazza, questo purtroppo blocca ed inficia l'esame che la sua classe ha sostenuto, quindi io a lei, adesso stiamo facendo chiaramente anche tutte le altre telefonate e a tutti gli altri ragazzi dobbiamo purtroppo sospendere il risultato d'esame, un attimo le finisco di dire e poi mi fa tutte le domande che crede, dobbiamo sospendere il risultato d'esame fino a pronunciamento del giudice che sarà sicuramente intorno ad ottobre-novembre. Ah, ho capito. Quindi ve lo sapete, io già l'ho fatto il mio esame. Lo so. Le persone e tutte le persone che, allora, quelli che lo hanno già fatto, il risultato di questo esame purtroppo è invalidato, al momento è invalidato. Questa purtroppo comporta anche una penalizzazione sul voto finale, quando il giudice si sarà pronunciato sulla validità o meno di questa cosa. Sì, però se alla fine lei non ha avvisato la classe che faceva questa cosa, quindi poi non è giusto che chi abbia sospenduto le palle si deve pagare, sei a posto suo. Non ho dubbi, non ho dubbi che lei abbia ragione. Purtroppo lei ha ragione. Mi sono fatta ancora così per fare l'esame orale, ora mi sento dire che il mio esito è invalidabile, che non è quello. Purtroppo, signorina, le spiego che cosa succede. Quando c'è una denuncia penale, perché purtroppo quando ci sono questo genere di cose, siamo nel penale, non siamo nel civile, allora il giudice è obbligato a sospendere la validità degli esami stessi. È la legge che purtroppo è così. Non è una cosa che può dipendere dalla nostra volontà. E quindi adesso stiamo avvisando tutta la classe? Adesso stiamo avvisando tutte le persone che hanno fatto l'esame e anche quelli che non l'hanno fatto, perché a questo punto è inutile che lo facciano, perché fino a pronunciamento del giudice questo esame è invalidato. Chiedo scusa, sono la mamma. Prego signora, buonasera. Sta parlando con Caputi, la chiamo dal Ministero della Pubblica Istruzione. Con chi chiedo scusa? Caputi, Ministero della Pubblica Istruzione. Buonasera. Lei è al corrente di quello che è successo alla ragazza? Un attimo solo, Parisa, fammi parlare un attimo. Lei è Caputi, Caputi, chiedo scusa, in effetti è un impiegato, che cos'è della pubblica? Sono stato incaricato di avvisare i ragazzi di questa classe, per la quale c'è stata una denuncia alla Commissione da parte di una loro collega, che purtroppo fino al pronunciamento del giudice. A causa di questa denuncia il loro esame è invalidato, per il momento. Vi arriverà ovviamente anche comunicazione scritta a casa, come da termini di legge. Scusa se la interrompo. Prego, si immagina. Però è vero che mia figlia è da poco maggiorenne, però penso che queste cose non vengano detto né per telefono e né tantomeno alla rivartesa. Allora, quello che lei pensa, glielo dico con grande sincerità e spero con buona educazione, a me interessa fino a un certo punto. Io faccio il mio lavoro, so quello che devo fare, so quello per cui sono pagato, so che devo farlo perché noi siamo obbligati ad avvisare i ragazzi al telefono quando c'è una comunicazione così urgente. Evidentemente arriverà anche una comunicazione scritta. Ma guardi, anche io lavoro nella pubblica istruzione, lavoro in una scuola superiore. Va bene signora, lei può lavorare anche alla Presidenza della Repubblica, con tutta la sincerità. La ragazza è maggiorenne, se me la passa gentilmente finisco di dire quello che avevo da dire, poi lì arriverà la comunicazione a casa, poi lei visto che lavora nella pubblica istruzione sa benissimo che ha 30 giorni per fare ricorso, che si può cercare un avvocato, può fare quello che desidera. Ma il discorso è questo. Chiedo scusa, se la signorina Yolanda ha citato i professori Io non ho fatto nomi. Lasciamo perdere, anche per la citata addirittura professoressa di tedesco per un fatto psicologico ma a questo punto, come lei... Io non posso entrare nel merito signora, io non potrò, mi capisca, lei conosce, lei lavora nella pubblica amministrazione, conosce la legge sulla privacy, io non posso entrare nel merito, io devo semplicemente comunicare una decisione amministrativa alla quale per voce poi seguirà la comunicazione scritta, per raccomandata. Visto che stiamo in un periodo di vacanza particolare, abbiamo pensato di fare bene ad avvisare anche personalmente, tutto qui. D'altro canto è la legge che ce lo consente, signora, si vada a controllare i regolamenti. Va bene? Ho detto quello che dovevo dire. Pronto? Sì, sì, la sento. Mi sente, perfetto. Posso finire di parlare con la ragazza per gentilezza? Vabbè, vedo che c'è confusione in famiglia. Signora, le arriverà la comandata in una trentina di giorni. La saluto. Buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Rosario? Sì? Mamma, che casino. Mamma mia! Io mi sto dirigendo verso casa di mia zia, ma non so che mi aspetta un pazziatore. Certo. Allora, adesso noi richiamiamo... Eh, parlo io, dico che era sempre occupato. Ok, vediamo che cosa ti dicono. Se te lo dicono, se no, sgamiamo. Ok, ok. Anna mia! No! Eh, certo, questi mi chiamano a scuola. C'hai un cellulare a cui possiamo chiamare tuo... Sì, l'ho dato prima ai tuoi colleghi, quello di Patrizia. Eh, beh, certo, perché altrimenti questi mi chiamano veramente i carabinieri. Mamma mia, ragazzi, oggi è giornata, che è giornata. È spento il cellulare di Patrizia. No! Allora, se mi passi la redazione, ti do altro numero ancora. Ok, te li ripasso immediatamente. Ebbè, dobbiamo chiuderlo, ragazzi, questo scherzo, perché è partito in sordina ed è diventato perché le mamme si mettono sempre in mezzo. Ma che due coi... Ma che palle, madonna! Quando le mamme si mettono in mezzo... Ma immaggiorè, ma falla fa! Ma falla cambasta, ma io! Stiamo provando al cellulare della signora De Falco? Pronto. Pronto? Via! Eh, via, sono Rotario! Eh, dimmi! Via, ma come si fa per chiamare a casa tua, che sei preoccupato? Eh, perché è occupato, stiamo parlando a telefono, lo so. Ma che è successo, zia? Che è sta voce? No, niente. Ma... Dimmi, che volevi? Trovo a casa, sto venendo da te. Sì, sì, vieni. Pronto? Sì, mi trovi, vieni. Signora... Via, ma tutto a posto! Via! Sì, 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 sì! Ah! Sì, si vuole una persona. Signora! Pronto? Signora, la chiamo dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sei nessuno! No! Il fatto giorno, 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 il fatto giorno... O meglio, sì! O meglio, sì! Rosario? Sì! Sì! Adesso valli a prendere a casa di tua zia, vai! Sì, infatti, ci sto, ragazzi! Grazie mille, un abbraccio grande, torniamo tra poco! Troppo divertente, stu scherz! Salve, signorina, buongiorno.